Lo schiero, non lo schiero, scelgo Musetti o Giampaolo. Mirko Cudini sfoglia la margherita per dare nuovi impulsi all'attacco russo-blu. Riccardo Musetti alle pile scariche, così l'allenatore del campo basso, starebbe pensando di lanciare nella mischia dal primo minuto Giampaolo, che ha un curriculum diverso dall'ex Parma, sicuramente meno nobile, ma in questo momento fornisce maggiori garanzie fisiche e tecniche. Riflessione che continuerà probabilmente nelle prossime ore fino alla rifinitura in programma domani mattina e che precede la partenza per Porto Sant'Elpidio, dove i lupi non possono sbagliare a non far dormire Cudini, ci si è messo poi anche Danilo Alessandro, che durante l'allenamento ha rimediato una contusione che loterà in forze fino all'ultimo dall'ex Cesena. Tutti si aspettano quegli strappi e quei gol necessari per puntare in alto. Fino ad ora deluso, ma dai grandi giocatori, e lui è un top player per la categoria, bisogna aspettarsi di tutto. Potrebbe insomma risorgere da un momento all'altro e far esplodere una squadra che gioca e costruisce, ma che non riesce a buttarla dentro. Porto Sant'Elpidio Campobasso sarà diretta da Niccolò Turrini della sezione di Firenze. Grazie a tutti.